Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. 11 miliardi che rientrano nella disponibilità del Ministero dell'Università e della Ricerca ne sono già stati investiti 9 e sono centri di eccellenza come questi che fanno e faranno la differenza per la vita delle persone. Quindi è su questi centri, è su questa ricerca innovativa, sostenibile, rigenerativa e soprattutto inclusiva che noi tutti dobbiamo investire. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita presso la sete dell'IRCA di Ancona di Via Santa Margherita ad accompagnare il Ministro all'interno della struttura specializzata in abito geriatrico e gerontologico e il Direttore Generale Maria Capalbo insieme all'Assessore regionale Filippo Saltamartini che ha aperto alla possibilità di implementare con nuovi fondi destinati alla ricerca la struttura per anziani. L'IRCA chiederò al Ministro di darci una mano per aumentare i livelli di investimento sulla ricerca applicata la professoressa Ministro della ricerca è una persona molto sensibile e credo che riusciremo a condurre in porto anche questa richiesta che proviene dalla piccola regione delle Marche che penso stia avendo in questo momento un ruolo anche politico per tutta una serie di relazioni che per esempio il Presidente Acquaroli ha con il Presidente del Consiglio per quanto mi riguarda per i rapporti con il Ministro Salvini e gli altri Ministri della Lega e in questo caso anche con la Ministra Bernini. Penso che le Marche in questo momento possano riuscire a guadagnare quei mancati investimenti che in passato l'hanno un po' messa ai margini del sistema nazionale. Puntare sulle implementazioni di figure sempre più specializzate e sull'uso di macchinari altamente tecnologici da un confronto con i ricercatori e medici dell'IRCA è emersa la necessità sempre più impellente di puntare sulle nuove frontiere della medicina a partire dall'intelligenza artificiale. E dalle figure altamente specializzate che si fa la differenza nell'accudimento, nella cura, nella gestione del paziente, nella prevenzione, nella diagnosi precoce e soprattutto quello che farà la differenza da adesso in poi sarà proprio la flessibilità dell'offerta formativa. Ci sono nuove figure, nuove professionalità che si sono evolute strada facendo che noi dobbiamo non solo valorizzare ma formare come meritano.